Gruppi al fulmicotone, vi ricordo con Richard Benson su One Television, tutte le sere dalle 23 alle 24 e 30, capito? Ho escluso totalmente le telefonate in diretta, perché mi avete rotto il cazzo, letteralmente rotto il cazzo, con le vostre domande insulse, brutti schifosi, ultimi degli ultimi, capito? Ma con chi pensare a che fa, eh? Finalmente, perché vi devo spiegare una cosa? Ecco, adesso ve la spiego. Io e il mio impresario, Gianfranco De Angelis, siamo passati da televisione in televisione, ma siamo stati a fare migliaia di concerti in Italia e in giro per il mondo. Non ero più abituato a fare televisione e per trovare la formula giusta c'è voluto del tempo, perché non ero più abituato. Ero abituato al pubblico dal vivo, no? A confrontarmi col pubblico che è già delirante di per sé. Quando io vado, quando mi vedono sul palco, vanno in un delirio totale, per cui è anche molto pericoloso per la mia vita, capito? Ma a me non mi importa, perché mi diverto come un pazzo. Comunque, non importa, capisci? E non ero più abituato a fare televisione, allora non riuscivo bene a capire cosa dovevo fare, capito? Io ero in butta con me stesso. In più, i fattori contingenti che si sono sviluppati durante questo ultimo periodo mi hanno fatto perdere un attimino il senno, no? Oltre che il sonno. Allora, gruppi metal a dismisura, l'ultima generazione del metal, dell'heavy metal, più dirompente, più feroce, più tecnico, più da guerra. Ora, siamo nella guerriglia più totale, dell'heavy metal più acceso, capito? Con le mie armi ipoallergeniche, vi farò capire a tutti gli incontri, ho escluso le telefonate, io faccio come cazzo mi pare, avete capito? Non siete all'altezza manco di panna telefonata, vergognatevi, schiposi. Poi la parola vergognatevi non è abbastanza, dovreste essere torturati, torturati. Non tutti, non tutti. Sono sempre quei quattro deficienti che chiamano per rovinare le trasmissioni. Io le levo che mi frega. Evo fregato come al solito. Comunque, passeremo a delle specifiche e delle coordinate più in avanti nella trasmissione. Io devo partire in quarta. Dischi metal a raffica. Poche parole, più musica. Il primo gruppo che vi voglio presentare si chiamano i Beyond Twilight. Sempre con Richard Benson su One Television. Canale 86 del Digitale Terrestre, va bene? Tutte le sere, dalle 23 alle 24 e 30. Vi ho detto, poche parole, tanta musica. musica, musica, metal, a raffica. I migliori gruppi metal esistenti al mondo. Ancora non tanto conosciuti. Forse gli sconosciuti sono più bravi di quelli più conosciuti. E questa è una legge vigente in tutti i paesi del mondo. Musicisti sconosciuti, più bravi di quelli conosciuti. Attori sconosciuti, molto più bravi di quelli conosciuti. Su questo non c'è dubbio! Su questo non c'è dubbio! Passiamo al metal Particolare Un ingresso spettacolare Botti di orchestra, orchestrali Ai limiti del potenziale umano Sicuramente A tutto il mio pubblico Li faranno impazzire! IMPASSIIRE! Ma non a quelli che telefonano Non aspetto altro che vedervi sei piedi sotto terra RICOPERTI RICOPERTI Sicuramente grazie I disturbatori se ne vanno Intanto faccio il fretta a levarli Decido io qua Ce l'ha a morte con questa gente A morte Il gruppo in questione che vi devo presentare Sono uno tra i gruppi più interessanti Del metal Sconosciuto Sono l'unico portatore Dell'ideologia metal Non esiste una trasmissione così In tutto il mondo Loro sono e si chiamano MAYAN Devo ringraziare il mio manager televisivo Achille Picozzi Che conosco da anni Che mi ha dato ampia fiducia E io mi sono prodigato Ad innalzare i valori d'ascolto Del mio programma A dismisura Infatti mi ha concesso una mezz'ora in più Dato i grandi ascolti Decido di sospendere le telefonate Non è detto che non le limetta Avendo un controllo molto accurato Ma per un minimo di 4 telefonate A trasmissione Non di più Non mi va di entrare in ragioni Commerciali Tanto per aumentare il gradimento del pubblico Non me ne frega niente Assolutamente niente Ci pensano gli altri per me Capito? Tanti E' ritornato Baratonicus Nel mio sito Che ringrazio www.richardwarriors.com Abbiamo Gianfranco De Angelis Che ha ampi poteri Su Youtube Su Facebook Su Twitter I canali più importanti di Internet Abbiamo una ramificazione Totale Rispetto all'ingegnere nucleare Leonardo Bianchi Con le apparecchiature più sofisticate E' esperto di Internet Per cui copriamo quasi mezzo mondo Ci è arrivata una Una comunicazione via Via streaming Però poi Sul cellulare di De Angelis Dall'America Da Gerusalemme Dopo c'è la guerra E da tutte le parti del mondo Per cui Io non mi preoccupo assolutamente Io vado avanti Nel ruolo Che mi si compete Capito? Ognuno ha un ruolo A se stante Per cui non c'è Una voglia di Oltrepassare l'altro Capito? Ecco Stiamo pensando un attimino Dopo le feste Ci penseremo con più attenzione Quando abbiamo Le idee più chiare Io e il mio manager Gianfranco De Angelis Però io dico sempre Prima l'amicizia E poi il lavoro Abbiamo parecchi affari da fare insieme Ancora non risolti Che ci porteranno grossi frutti economici Figuriamoci Figuriamoci quanto ce ne frega Da andare in giro per l'Italia A prezzi contenuti D'altronde il mio cashier ha aumentato in maniera notevole Nel frattempo A tutti i gestori Dei locali E a locali Extralusso Dove non sarà adibito I disturbatori I cosiddetti finti metallari Ragazzini Che vanno dai 15 ai 18 anni Se vedi un vecchio C'è al massimo 28 anni Questo è il pubblico che mi segue Forse è il pubblico che mi merito Ma io lo amo il mio pubblico È tutto un gioco È tutto uno scherzo È questo che la gente non riesce a capire È talmente tarata mentalmente Che c'è i tappi mentali Che non capisce Che è tutto uno scherzo Che è tutto un gioco Un gioco molto satanico Capito? Un gioco che si inoltra Nelle parti più reconditi Del cervello umano Un gioco che si inoltra Attraverso le varie vene Le varie stratificazioni mentali Capito? Un gioco Che conduce a volte anche Verso la morte Grazie Andiamo avanti Con un altro gruppo Sconosciuto Sono bestiali Originali Ci sono delle voci in mezzo Incastonate in mezzo Potrebbe sembrare un gran casino Ma c'hanno una tecnica eccelsa Loro sono Gli Xerat Mi ricordo che Un giorno stavo al verano Passavo di lì per caso Ma mi accorgo di una cosa Molto strana Un carro funebre Dove c'era un uomo Accanto al carro funebre Con un guinzaglio che teneva un cane E dietro c'erano solo uomini La cosa mi sorprese al quanto Come non c'è nemmeno una donna Solo uomini Mi avvicino Incoriosito Normalmente queste cose Io non le faccio Non sono abituato a farle E non so cosa mi ha detto La mente in quel momento Perché non mi sarei mai Rivolto così ad un'altra persona Alla persona Che stava Vicino In capofila Vicino al carro funebre Ma cosa è successo Mio caro signore E lui mi risponde È morta mia moglie Ah mi dispiace Dico io Ma come è successo L'ha ammazzata lui Rivolgendosi al cane Al che Non so cosa mi ha detto La testa In quel momento Ma mi è venuto Spontaneo Dirli Senti Che me lo impresti E lui mi va Ricordatevi C'erano solo uomini Gli dico Che me lo impresti E lui mi fa Mettiti in fila Andiamo avanti I gruppi più potenti Dell'heavy metal Di oggi Odierno Odierno Dei veri mostri Cioè Mentre un certo tipo di metal Escludeva le chitarre soliste Il nuovo decorso metal Prende Prende Dei chitarristi Di notevole Levatura Tecnica Questa è la differenza Anche Oltre che tutti gli altri Iper Mostri Mostri nel senso buono Del termine Nel senso Forse la gente Non capisce Quando dico mostro Un mostro Uno molto bravo Capito? Loro si chiamano Allegaeon Sempre con Richard Benson Su One Television Tutte le sere Dalle 23 Alle 24 E 30 Una mezz'ora in più Dato il grande Ascolto Della trasmissione Ho escluso le telefonate Vi ho già spiegato Perché Non intendo Ribadire Quello che ho già Detto Capito? Non sono un Passatista Capito? Chi lo diceva? Mogliera Diceva Non sono un Passatista Sono uno che guarda In avanti Ma purtroppo In avanti C'è la morte Mogliera Allora Vi ho promesso E quello che promette Richard Benson Si rivela sempre Una verità E una verità Con i controcazzi Una verità Con i controcazzi Avete capito? Sì 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 Sono incazzato Come una bestia All'ennesima potenza Sanguinaria Con tutto il sangue Che mi cola Dalla bocca E dai denti Andrei Detuparmi Deturparmi E cadere Sul mio petto Un'altra passione Di Cristo? No Vi siete Sbagliati Loro si chiamano Unleashed E spaccano il culo Un altro gruppo Di heavy metal Di ultima generazione Ha avuto Un ottimo Indice Di gradimento Far vedere Una chitarra A settimana Dalla Collezione Di chitarra Che Secondo Il guitar player Americano Una delle più vaste Al mondo E poi La gente Interessata A pezzi Unici Che non sono Reperibili Su Nessun Mercato Mondiale Ecco Vi volevo presentare La chitarra Di questa settimana Di nuovo E poi Dare altre spiegazioni Allora Questa Praticamente E' una DIN E' una DBZ E' una serie speciale Della DIN By Zelinski Si chiama DIN By Zelinski Che sarebbe il proprietario Della DIN E' un'edizione A copie Limitate Un'edizione limitata E c'è un look Che io trovo Stupendo E vi faccio capire Che c'ha due EMG Uno al manico E uno al punte E' una Leva Floyd Rose Originale Non su licenza Floyd Rose Floyd Rose Originale Trovo che sia bellissima E' tutta satinata Se la toccate Capito? Di settimana in settimana Farò vedere I pezzi Più Avvincenti Della mia collezione Di chitarra A parte che sono Quasi tutti Avvincenti Dunque Perché io compro Solo roba Di alta gradazione Di alta gradazione Diciamo Con suoni Incredibili E Dalla settimana prossima Vi assicuro anche Dei dischi Nuovi Imperdibili Che sono Difficilissimi Da trovare Sotto Natale Chiaramente Si ferma Tutto il mercato E ricomincia Verso il 15 Gennaio Dischi nuovi Che stanno Per arrivare Eccetera Eccetera Io ho già Rimediato Un sacco di dischi Per la prossima settimana Invece Ho le mie conoscenze Ho le mie vie Che non mi va Di dire Perché E la persona In questione Che mi fa avere Tutte queste cose Mi ha pregato Di non dirlo Adibito Alla Alla reperibilità Di strumenti Così prestigiosi In coppia Unica E adibito L'amico Fraterno Stefano Agostara Uno dei più grandi Intenditori Al mondo Di chitarre E lo ringrazio Caldamente Ci conosciamo Ormai Da più Di 25 Anni Non abbiamo Mai litigato E siamo Sempre in contatto E Mi entreranno Tra poco Un altro Quantitativo Enorme Di chitarre E' importante Spiegare una cosa Però Volevo spiegare Una cosa Che vi farò Vedere Io c'ho le vecchie Zach Wild Zach Wild E' il chitarista Che è stato per anni Con Ozzy Osbourne C'ho le vecchie Zach Wild Sia a Freccia E sia Allespol Con i cerchi Intorno neri No? Ma una delle mie Chitarre preferite E' la nuova Zach Wild Quella uscita adesso Di recente Infatti Ne ho comprate Due copie Due Due chitarre Uguali Praticamente Ho comprato Zach Wild Ha avuto Un'idea Clamorosa Su questa Chitarra A parte Appena L'ho presa Nelle mani Ho sentito Il manico Ho detto Questo è proprio Il manico Che ci voleva Per la mia mano Attacco Il suono La Diciamo La levetta Che il Zach Wild Tiene purtroppo Più in alto E ho scoperto Il perché Perché dà fastidio Qua Perché Dà Un magnete Passi E un altro Con una botta Ma il Zach Wild Tiene liquidare Molto basse Capito? Per cui lui E' più comodo Per lui E' più comodo La nuova Zach Wild Volevo dire A dei magneti speciali Voi Dovete sapere Che Con degli EMG Normali Montarli Dovendo Cambiare Come ho fatto Con le George Lynch Eccetera Eccetera Bisogna passare Attraverso dei fili Attraverso Tutta la chitarra Onde Finire Cambiare Il jack Che si è adibito Alla cosa Nella Custodietta C'è una batteria Che dà Il potenziale Ai magneti Richiudere E' un lungo lavoro Da fare Zach Wild L'ex O tuttora Chitarrista Non lo so Perché L'ultimo Chitarrista Di oggi Osborne E' stato Il virtuoso Greco Giovanissimo Gus G In Scream Non so Che decisione Prendere Perché Si è presentato Con Ozzie And Friends Ed è salito Sul palco Pure Zach Wild Ma è salito Anche Slash Ex Guns Roses Allora Tutti gli amici Di oggi Insieme Praticamente A Gods of Metal Una cosa Importante Da dire Che Zach Wild Si è inventato Una combinazione Dove Non occorre Passare Attraverso Con tutti Sti fili Onde Mettere Una batteria Che è un lavoro Che dura Un sacco Di tempo E ci vuole Un sacco Di Artifizi Non è semplice Ma lui Si è inventato Gli MG HZ Si chiamano E MG HZ Sia Al manico Sia al punte 2 MG HZ L'MG HZ Che è una scoperta Di Zach Wild Ha lo stesso valore Di suono Di un MG Normale Diciamo Ma dove c'è tutto Quel passaggio Infernale Senza nessun passaggio Lo monti Come un magnete Normale Si chiamano Gli EMG HZ I nuovi Magneti Inventati Da Zach Wild Nella sua Nuova chitarra Il magnete Al punte Ha un suono Ho detto E' il suono Che da sempre Ho cercato Però sono tutte belle Direi Che ho una collezione Di Dean Mastodontica Non solo Di tante altre C'ho una sola Steve Vai Ho tenuto la migliore Suona come una bestia Quella Steve Vai La Sadriani La Gambale La Clapton La Clapton storica Non la Clapton Economica Che fanno adesso Con I Noiseless Ma con I Laysensor Originali Dell'epoca Made in USA Che costa un patrimonio La nuova Clapton Bellissima Tutta grigia E' bellissima Capito? La chitarra Di Buckethead Gibson Tutta bianca Col botocino Rosa La chitarra Del chitarrista Degli Aerosmith Joe Perry La chitarra Le varie Chitarre La gothic La voodoo E' pieno Neanche me li ricordo più Sono così Ah L'annulator Firmata dietro da Jeff Waters Il capo degli annulator L'annulator E' una bestia Tutte le chitarre messe al muro Dalla Gary Moore A Alle chitarre più avanzate Che ci stanno Che mi ha messo già Franco De Angelis Al basso di Gene Simmons Originale di Ghis Che mi ha regalato lui personalmente Alla chitarra Di Ace Freely Sempre specchiato Tutte specchiate Paul Stanley Scusa Ace Freely Era il chitarista precedente Scusate Paul Stanley Un attimo Di De Flyance Che ha fatto però Un ultimo disco solistico Dove si presenta Con i baffoni Sembra quasi quello Dei Camaleonti Di Applausi Livio Mecchia E' Totalmente Trasformato Comunque Paul Stanley Chiaramente E' Invece il nuovo Chitarista di Kiss Quello là Con No Con le stelle agli occhi Assume molto più spazio Nel nuovo disco di Kiss E l'avevamo già sentito Forse torneremo a sentire qualcosa Di queste cose più Diciamo Facili Commerciali Ma Il pubblico è metal E quello non è propriamente metal E allora Non mi conviene Capito Perdo solo tempo Però Vorrei dare un'altra possibilità Ai tedeschi Destruction Perché sono veramente fenomenali E non l'abbiamo sentito bene Quel disco Un'altra possibilità Gliela darei Non subito Perché E' presto ancora E' Ho tanti Tanti dischi Da farvi Sentire Della nuova generazione Del nuovo Progressivismo Che c'è Nell'heavy metal Capito? Questo è importante Io voglio domande Di gente colta Non dei soliti Disturbatori Che disturbano Che tendono a disturbare La gente che vuole Sentire un bel programma Delivisivo Non deve essere Un programma Di sole telefonate Al massimo Quattro Quando le linee Telefonico Mi daranno La sicurezza Della domanda Se è una domanda Attinente Al programma Io non accetto Compromessi Di nessun genere Io vado avanti Per la mia strada Io uscito Da questo studio Televisivo Birintano Nella mia villa Fuori Roma A quattro piani E sto di bene In meglio Meno gente Vedo Meglio sto L'unico Addibito A entrare In quella casa E Gianfranco De Angelis Il mio Personal manager E amico Il mio amico Del cuore E non ci prendete Per omosessuali Che abbiamo Due mogli Bellissime Ok Grazie Senza nessuna Discriminazione Verso Chi è diverso Ma a me Mi piacerà Sorca Allora Gli ho messi Ma la chitarra L'abbiamo fatta Rivedere Vero Bene Un altro gruppo Che è una forza Della natura Loro si chiamano Angelus Appatrida Angelus Appatrida Vi ricordo Vi ricordo sempre Con Richard Benson Tutte le sere Su One Television Dalle 23 Alle 24 Lo dico varie volte Vi spiegherò il perché Non tutti stanno Un'ora e mezza Davanti a televisione Specie Quando c'è un'incultura Così vasta In Italia Musicale Rispetto a Heavy Metal E a Varie correnti Rock In generale Ma chi c'era Prima in classifica Stamattina Già Ramazzotti E sceso E chi c'era Te lo ricordi C'era Vasco Rossi Ah Vasco Rossi Eh sì Siccome Vasco Rossi Sta molto male Tentano di far Rivivere il mito Tramite I concerti Di San Siro Che fece I tre pienoni Ti ricordi Ne poteva fare Un quarto E tutti i palazzi Vicino a San Siro Tremarono Da L'impianto Da 150.000 watt Stanno cercando Di farlo tornare In vita Vasco Rossi Ma Sarà molto Difficile Ve lo posso assicurare Io Ho Ho già pensato Che da tempo Sarebbe Scomparso Ma Evidentemente C'è una forza Rui bestiale E Riesce A Sopprimere Qualsiasi cosa Nonostante Le sue Angherie Le sue Pazzie Ma Quello forse Dettato Dal male In cui si trova Va pure Giustificato Vasco Però vedi Le case discografiche Come se ne approfittano Appena uno sta male Per far rivivere Il suo mito Ma sai quante Compilation Dalla morte Di l'uso Dalla Sono uscite A bizzeffe Non si sa Quale comprare Con tutti i suoi successi Una glielo L'altra Appena è morto Capito Qua abbiamo Un gruppo Che a me piace Molto Vi pregherei Di ascoltarlo Con attenzione Si chiamano Immun Spell Immun Spell Pezzo Accattivante Che sembra Più commerciale Ma attenzione C'è un primo Assolo di chitarra Ritorna La voce Diciamo In questo Ostinato Vocale Ma poi Ritorna La chitarra Solista E anche loro Sono dotati Di un Chitarrista Mostruoso Direi Come tutti Questi gruppi Batteristi Mostruosi Chitarristi Mostruosi Pezzi bestiali Feroci Dinamici Sanguigni Ma che volete Di più Che volete Di più Volete Continuare A criticare Me Proprio Me Con tutta Sta Merda Che gira In Italia De musica C'è un pezzo Di Robin Williams Che sembra Cucciolo Del boccia Quando ho fatto Rai 2 Con Max Giusti Libero Capito Oh Robin Williams Che va a copiare Boccia E certo L'avrà sentito Il pezzo Tramite internet Avrà sentito Il pezzo Tramite internet Boccia Era un ragazzo Simpatico Ora mi accorgo Che era Un vero genio Andiamo Con i Moonspell Due soli Di chitarra Il secondo E meglio Del primo Moonspell Sempre con Richard Benson Io devo fare Un applauso Alla mia Futura moglie Essere Sposito Perché È una musicista A 360 gradi Veramente Io cercavo Una cantante Perché Avevo una cantante Molto bella All'epoca Che si chiamava Lara E piaceva molto Il mio pubblico Dotata Di straordinaria Bellezza Ma come voce Era Una gagna Per caso Ho incontrato Essere Sposito Durante uno Dei miei concerti Che era una mia Fan E ho detto Fai il provino Con me Fu eccezionale Quei provino E mi accorsi Che aveva una voce Eccezionale All'epoca Molto meglio Di adesso Che non si allena più E ti dovresti allenare Invece Capito È una tua mancanza E È anche Una tassilista Bravissima Nonché Scopritrici Di talenti Molto importanti Io la lascio fare Lei ha i suoi artisti Io c'ho i miei Noi siamo una coppia libera Io non mi occupo Delle cose sue Come lei Non si occupa Delle cose mie Anzi Lei si occupa Delle cose mie A livello televisivo Eccetera Ma lei c'ha La lascio libera Nel scegliere I talenti Qui Meglio Credo Penso che non abbia Bisogno di consigli C'ha un orecchio Come poche donne Al mondo E Una sensibilità Fuori dal comune Io sono meno sensibile Devo dire Sono più Ferroso Più grintoso Più Più Con i piedi per terra Più affarista A me interessano Molto i soldi Fare sempre più soldi Lei più sensibile Lei piange Quando muore qualcuno Io no Ma c'è sensibilità E sensibilità Voglio ricordare Io posso pure Sentire un dolore Estremo Nel profondo E non dimostrarlo Sono un ottimo Mistificatore Del patto visivo Attenzione Grazie a Esther Esposito Mi dispiace per la Stefania Orlando Con cui ho avuto Un rapporto Intimo Molto bella Devo dire Ma Vedo che Io volevo fare La collezione Di tutti i suoi dischi No? L'ultimo Ti ricordi come si chiama? No? Perché La prima si chiama Ah allora Il primo si chiama Atroia Poi Frappè? No Manca Frappè A Troia Frappè E poi l'ultimo Vita Bastarda Sì Ma io volevo fare La collezione Di tutti e tre I suoi dischi E Frappè È stato tutto di mezzo Adesso non posso più Fare la collezione E questo mi dispiace O no? Perché non è bella Stefania Orlando È stupenda Non bella Io solo Donne Belle Grazie Stefania Auguri A tuo compagno Che so Che è un chitarrista Il mio seguace Buona fortuna Perché mi dicono Che hai Una voce Potentissima Ti invito Personalmente Qua Negli studi Per dare dimostrazione A tutti i miei fans Del potenziale Della tua voce Perché ti ho vista Sul messaggero L'altro ieri Dove Il giornalista Di Bido Pensa che T'avevo scambiato Per l'Alecciso L'Alecciso Ma sei molto più bella Deve l'Alecciso Chiaramente E Stefania Poi è Molto ricca Anche Provina Da una famiglia Di avvocati Si lo so Ma che devo mettere Gli Affector È l'ultimo brano E i più famosi Non vanno in onda La settimana prossima Gli Overkill Sono i più famosi Nel metal Comunque Meglio mettere Quelli sconosciuti Che sono più bravi Ricordati Salvatore A partire Da 9.08 Perché il pezzo È lunghissimo Alla fine Mi viene a durare 4.56 Se no Non si potevano Mettere Gli Affector Ricordo Che c'è Derek Sherignan Come ospite C'è Tony Tony Lepond De Tony Sì perché L'altro è mai Pinella Tony Lepond Dei Sinfoni X Al basso C'è uno Strano Che non conosco Adesso non mi so Viene il nome È come se fosse Un nome grosso Questo Loro Comunque È un gruppo Indipendente Con in aggiunta Questi ospiti Ho scelto Il brano Dura 14 minuti E 4 È una cosa Allucinante La durata Di questo brano Ma Ho scelto L'estratto migliore Che potevo scegliere Dove si sente Veramente La grande Tecnica Degli Affector A questo punto Vi saluto La settimana prossima Farò vedere Un'altra Delle mie Chitarre E una cosa Vi chiedo Tramite De Angelis Che ha Segnalazioni Sul computer Continue Da questo momento In poi Mettetevi in contatto Con internet Fatemi sapere Se vi è piaciuta La trasmissione Di questa sera Completamente Diversa Dalle altre Se ho trovato La strada giusta Capito Ho trovato La strada giusta Siete contenti Volete telefonate Non le volete Fatemelo sapere Perché per me È la strada giusta Ma ho bisogno Del vostro consiglio Come vedete Chiedo aiuto Ai miei fans Al mio pubblico Grazie Loro sono Gli Apecto 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 Agro Grazie.